A Roseto degli Abruzzi la mancata pulizia della vegetazione del torrente Borsacchio torna a far preoccupare i residenti in vista dell'autunno. Con le piogge potrebbe ripresentarsi il rischio di esondazione, come avvenne nell'alluvione del 2011 che portò ingenti danni ad abitazioni scantinati nella zona. Una condizione su cui è intervenuto il presidente dell'Associazione Guide del Borsacchio, Marco Borgatti, che chiede una pulizia mirata e non totale del torrente. Diciamo che spesso ci sono dei falsi miti, a volte si cerca di trovare soluzioni a problemi che ci sono ma non sono devuti a determinate cose. Ad esempio molti pensano che le canne siano un ostacolo. Guardate, le canne nei fiumi esistono da prima che l'uomo si ergeva su due gambe e quando aveva ancora la coda e non è quello il problema. Anche perché hanno due enormi funzioni. Uno sono un rifugio per la vifauna, ma questo può anche essere poco considerato da noi umani. Però c'è un bel problema che le canne risolvono, l'inquinamento. Le canne hanno un potere depurante qui nei letti dei torrenti, incredibile. E tagliarle significa perdere proprio qui in una zona dove abbiamo delle pompe di sollevamento che spesso sversano liquami che finiscono nel torrente Borsacchio e che poi finiscono al mare. Ricordiamoci, questo tratto spesso viene chiuso per la bagnazione. Certo, l'uomo interviene in maniera pesante in diverse situazioni. Per esempio, qui abbiamo costruito dei ponti. Questi ponti devono essere puliti perché qui noi siamo intervenuti come uomini. Questi albei devono essere puliti e le canne devono essere anche rimosse, i detriti, perché qui si formano i tappi, non si formano prima. Il problema della mancata pulizia è anche dovuto alla carenza di fondi da parte degli enti preposti, ma c'è bisogno di un intervento immediato al fine di evitare che la situazione possa peggiorare. La manutenzione è sempre fondamentale, quindi gli argini devono essere mantenuti anche perché abbiamo costruito vicino un fosso. Ricordiamoci, il Borsacchio probabilmente prende il nome da un laghetto che si creava dove adesso ci sono le case dove c'è la strada provinciale. C'era l'Uvursacchio, cioè non arrivava al mare, creava un laghetto dove ristagnava l'acqua che defluiva dal fosso, cioè dalle colline. Quindi noi ci abbiamo costruito, quindi ora dobbiamo mettere in sicurezza le case, si mantengono gli argini in ordine, le canne. Si possono anche lasciare perché depurano e dobbiamo pulire i ponti, questo è il problema.